ciao ragazzi bentornati nel nostro garage ma soprattutto bentornati nel nostro canale youtube oggi continuiamo l'allestimento della ducati motistrata v4s con l'equipaggiamento sv motel in questo episodio monteremo le valigie e le tracks di ventro da 37 litri ovviamente le valigie necessitano dei loro telai dedicati abbiamo già preparato nel nostro carrello tutto lo stafoggio necessario la buoneria abbiamo il nostro manuale di istruzione molto semplice intuitivo nella prima parte di questa serie abbiamo installato il top case sempre di sv motel che è il modello tracks di ventro e vi lascio il link in descrizione se vi siete persi questo episodio quindi ci rimane soltanto che metterci al lavoro ciao 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 bene ragazzi prepariamo i telai per il montaggio sulla moto quindi vanno fissati gli innesti rapidi per gli agganci necessari per gli agganci e supporti e poi anche la la parte buonetra per fissare i top case la parte buonetra per fissare i top case quindi mettiamo la parte buonetra per fissare i top case qui abbiamo terminato l'assemblaggio dei telai adesso li montiamo sulla moto e successivamente effettuiamo una bella registrazione dei sopporti. Allora, vediamo, utilizziamo il percepire per fare il sicuro di incastro, riflessiamo uno e successivamente facciamo gli altri. Ripeto, questa è soltanto la prima, ecco qua, per registrare i supporti. Poi successivamente stringiamo, vedete questo qua non è proprio allineato bene, facciamo anche questo per la targa. Ok, vedete questo qua non è allineato e noi adesso lo sistemiamo. Ecco qua, perfetto. Adesso stringiamo tutti i bulloni da questo lato e poi montiamo l'altro telaio, o ancora meglio, montiamo l'altro telaio e successivamente stringiamo tutti i bulloni. E' bellissimo. Ok, montiamo all'altro lato. Allora ragazzi ci siamo, è arrivato il momento delle trucks ad Aventure, queste sono quelle da 37 litri. Abbiamo montato i telai, adesso facciamo un unbox insieme delle valigie. Molta delicatezza con il tagliarino. Io le uso veramente da molti anni e mi sono trovato benissimo. La qualità dei prodotti è eccezionale. Abbiamo sempre... Allora, appoggiamo un attimo il cartone a terra. Abbiamo la sua borsa dedicata. Eccola qua. Allora, montiamo le serrature e installiamo la prima valigia. Bene ragazzi, abbiamo terminato. Le nostre valigie le abbiamo montate, fantastiche. Tra l'altro ho notato una nuova serratura che è fatta il Sebumotech con il tappo per proteggere la serratura da acqua. Le valigie sono fantastiche. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!